in queste settimane l'italia sta vivendo un'emergenza sanitaria mai vista prima e il turismo purtroppo è uno dei settori più colpiti con enormi danni subiti in questo momento di difficoltà con migliaia di alberghi chiusi su tutto il territorio nazionale abbiamo l'obbligo morale e l'opportunità di lavorare per il futuro per la prima volta infatti ci troviamo ad affrontare il turismo come una vera e propria industria per l'impatto reale che ha dimostrato di avere sull'economia che va ben oltre al 15 per cento dichiarato sul pil allo stesso tempo in attesa dei nuovi decreti e delle agevolazioni auspicate ogni imprenditore turistico ha la responsabilità di concentrarsi su ciò che può controllare questo è il momento di fare un'attenta analisi finanziaria della propria attività per valutare precisamente l'ammanco subito e fare una previsione dei ricavi futuri per stimare il calo di fatturato una volta finita la fase di emergenza il mercato subirà sicuramente un effetto compensativo ma nel frattempo per superare la crisi dobbiamo mantenere un equilibrio tra costi e ricavi per farlo dobbiamo conoscere esattamente l'incidenza delle diverse voci di costo sul totale del fatturato dobbiamo stimare ad esempio l'impatto che ha il costo del lavoro sul totale dei ricavi per questo dobbiamo studiare attentamente il consuntivo del 2019 e dobbiamo costantemente elaborare proiezioni per i ricavi del 2020 in quest'ottica il mio consiglio è fare delle valutazioni prudenziali anche al di sotto di quelle che sono le reali aspettative in ogni caso ad emergenza finita ci troveremo ad affrontare uno scenario che non abbiamo mai affrontato prima le analisi dei dati ci dicono che nel 2019 circa 40 milioni di italiani hanno fatto le proprie vacanze nel periodo compreso tra giugno e settembre di questi circa 8 milioni hanno scelto l'estero questo significa che potremmo aspettarci come conseguenza una domanda nei mesi di punta addirittura superiore a quella degli anni precedenti ecco perché sarà fondamentale fare un'attenta analisi dei dati per impostare le corrette strategie di marketing e revenue che ci permetteranno di cavalcare la corrente rialzista questo non è il momento di lamentarsi e quando la ripresa inizierà la differenza la farà come avremo impiegato queste settimane per prepararci al futuro ognuno di noi ha la responsabilità di dare il proprio contributo affinché l'italia il paese che amiamo e uno dei primi ad essere stato colpito da questa emergenza possa diventare la nuova capitale del rinascimento turistico andrà tutto bene